Era composto da almeno sei persone il comando armato che questa mattina in piazza Duomo a Cerignola ha tentato un assalto ad un portavalori mentre quest'ultimo scaricava contanti all'interno dell'ufficio di poste italiane. Momenti di panico non appena si sono palesati i sei soggetti incappucciati e con in braccio i fucili praticamente ai piedi della maestosa basilica cerignolana. I banditi avrebbero colto di sorpresa i vigilanti minacciandoli di consegnare armi e giubbotti antiproiettile poi la richiesta del denaro ma due sacchi pieni di banconote erano stati già consegnati all'ufficio postale. Una terza guardia giurata ancora a bordo del portavalori è riuscito a bloccare le porte del mezzo ed evitare che i banditi potessero entrare per prendere il bottino restante. A quel punto il manviventi si sono dati alla fuga nessun colpo d'arma da fuoco è stato esploso nessuno è rimasto ferito il tutto è avvenuto davvero in pochi istanti. I banditi sono riusciti a far perdere le loro tracce prima dell'arrivo sul posto dei poliziotti del commissariato di cerignola. A loro sono state affidate le indagini per le quali sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.